Ecco la sala grande del Museo Nazionale della Civiltà, in pratica il museo ha due piani, piano terra giù dove c'è la sala delle mummie con 22 mummie e piano terra giù e qui c'è il primo piano dove hanno messo proprio di tutti i periodi storici statue, piatte, vasi, stoffe, tappeti, è un po' di tutto, proprio si chiama il museo della civiltà perché ormai civiltà vuol dire cultura accumulata, allora è un po' strano per me essendo una guida che più di 25 anni che ci vado al museo egizio ho gli occhi abituati con l'ordine cronologico proprio a spiegare, qui un po' diverso perché c'è un po' di tutto, essendo solo una sala lo vedo un po' strano però è molto ricco a dire la verità, davvero è molto molto ricco, uno qui può parlare di tutti i periodi storici della nostra civiltà, della nostra storia egizia che è la più ricca in tutta la storia umana, no? Ecco, mi sembra tutto bello, elegante, ricco, diverso, questa diversità ormai è una ricchezza a sé, così troviamo una statua, poi una colonna e magari accanto troviamo delle monete, gioielli, barche, ancora statue, fenestrine del periodo islamico, poi magari la roccia come come scavavano una volta e come scoltivano una volta per fare una statua, l'arte islamica, le stoffe, i tappeti, i vestiti, addirittura abiti, c'è un po' di tutto, bello, bello davvero è diverso.